Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Martina. Martina, Martina quanti anni hai? 21. E da dove vieni Martina? Vengo dalla California, vicino a Bibbona. Sei fidanzata? Sì. Quanto tempo? Due anni. Bene, no? Sì, sì, va molto bene, per ora sì. Quanto tempo tu mi fai la modella? Diciamo questo è il secondo anno, ho iniziato con un concorso a livello locale, e poi piano piano ho cercato di fare qualcos'altro, insomma, anche a livello regionale. E come sta andando secondo te? Beh, per ora abbastanza bene, mi diverto e questo è l'importante. Ti piace più posare o stilare? Mi piace più posare, sì. E macchina fotografica? Hai avuto occasione, avuto modo di posare? Sì, sì, ho avuto alcune occasioni, diciamo, fotografi sempre del posto, però comunque è stata una bellissima esperienza. Ti sai che il mondo della moda è abbastanza tosto, no? Perché tanti pensano che comunque a di fuori sia tutto rosa e fiori, tutto bello, invece non è vero, perché a volte le modelle arrivano prima alle 6, magari c'è una sfilata alle 10, insomma, c'è da lavorare. Tu sei una bellissima ragazza e si giudica a volte nel mondo della moda proprio per la bellezza, per il corpo, ma tu vorresti essere giudicata solo per quello, per la tua bellezza? Beh, diciamo di no, oltre a quello c'è tante altre cose, diciamo che, vabbè, in un concorso di bellezza viene giudicato a primo impatto quello, però piano piano, visto che non è quello che mi piace fare, insomma, quello che preferisco più, servizi fotografici, magari più il cinema, magari può uscire anche al lato caratteriale, che insomma è anche una cosa che per me conta di più. Perché il cinema bisogna studiare? Sì, sì, bisogna studiare parecchio. Sì, ho iniziato qualcosa, però diciamo che ancora sono soltanto agli inizi. Bellissima, via. Mi fai una posa fotografica, anche se abbiamo la telecamera? Mettiti in posa, vai.